Uso di armi di distruzione di massa. La Procura federale degli Stati Uniti ha formalizzato le accuse a carico di Ahmad Khan Rahami, sospettato di aver piazzato le bombe artigianali esplose in New Jersey senza fare vittime, e a Chelsea, New York, dove 30 persone sono rimaste ferite. Rahami, che era già stato accusato di tentato omicidio e porto d'armi illegale a seguito dello scontro a fuoco con le forze dell'ordine, è sospettato di aver piazzato in tutto otto ordigni che non sono esplose. Il 28enne è stato arrestato lunedì in New Jersey, a seguito di uno scontro a fuoco con la polizia, ricoverato per le ferite riportate, non è ancora stato interrogato. Le accuse arrivano assieme alla notizia del ritrovamento di un diario in cui Rahami lodava, tra l'altro Osama Bin Laden. Ieri il sindaco di New York, Bill de Blasio, e il segretario alla sicurezza interna americano Johnson hanno visitato il quartiere teatro dell'attentato.